Portacolori, quaderni e libri dentro lo zaino, tutto pronto, si torna a scuola. Lo ha deciso la regione siciliana su indicazione della task force regionale che ieri mattina si è riunita in videoconferenza con l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale. Dopo un breve rinvio, ampiamente motivato da ragioni di opportunità organizzativa e sanitaria, gli studenti siciliani rientreranno in classe. Lo ha detto il governatore Musumeci, sono le 17.25 di mercoledì 12 gennaio. Da due ore però è in corso la riunione dei sindaci siciliani. Indetta dal primo cittadino padermitano e presidente di Anci, Leo Luca Orlando. I molti non sono d'accordo con la decisione di Palazzo d'Orlean. Il motivo? Non ci sono ancora dati certi sui contagi né sui tracciamenti e finché non ci saranno il ritorno in classe non sarà sicuro. L'assessore Lagalla, d'altronde dopo la task force, spiega che il rientro in presenza è dovuto dal momento che non ci sono le condizioni giuridiche per un ulteriore rinvio. Ma parla di una scelta ponderata. Si è ottenuta attraverso un'articolata discussione, un confronto con tutti i portatori di interesse del mondo scolastico a cominciare dal lanci, dalle organizzazioni sindacali, dalle rappresentanze degli studenti e dei docenti. È evidente che occorre contemperare il diritto alla salute e il diritto allo studio, quindi richiesta di un puntuale monitoraggio sanitario, potenziamento delle vaccinazioni anche all'interno delle classi, una particolare attenzione al distanziamento interpersonale, alla cura e al controllo dei trasporti. Fino alla prima serata sembra ormai certo che gli studenti siciliani dovranno rientrare in classe. I sindaci però forzano la mano e ribaltano la decisione della regione, appellandosi all'articolo 50 del testo unico Enti Locali, che dà ai primi cittadini facoltà di emanare ordinanze in caso di pericolo. L'adesione dei comuni siciliani è massiccia, ma non tutti hanno deciso di lasciare chiusi gli istituti, come a Ragusa, dove oggi gli studenti hanno trovato le porte delle classi aperte, perché, ricorda il sindaco Cassì, le ordinanze di chiusura dei primi cittadini possono essere impugnate se avvengono in zona gialla, perché vanno contro le disposizioni del governo nazionale. Di fatto però, nella stragrande maggioranza dei territori siciliani, oggi le scuole sono rimaste chiuse agli studenti.